ciao ragazzi bentornati sul mio canale oggi faccio un video spacchettamento avon vediamo quali sono i prodotti acquistati dalle clienti abbiamo quattro di queste creme è una crema per viso e corpo al cacao e un formato di 400 ml ha una bellissima profumazione la cliente visto che era in offerta ha approfittato e quindi ne ha preso quattro poi abbiamo questo deodorante formato 50 ml abbiamo quest'altro e poi l'ultimo sono tutti e tre femminili un altro prodotto è questo il correttore della color trend vediamo se c'è qualche altra cosa qui non abbiamo finito c'è questo campioncino che mi manda l'azienda e poi ovviamente la fattura diciamo è un mini spacchettamento perché comunque alla cliente servivano altri prodotti dal pacco purtroppo non vi ho potuto far vedere due bottiglie di asciugasmalto perché comunque servivano subito alla cliente quindi ho dovuto fare subito questa consegna volevo dirvi che il deodorante che adoro dell'avon è proprio questo è la profumazione che uso da tantissimo tempo allora ragazzi lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video con tutti i vostri amici noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video con tante novità avon